E invece parliamo di un nostro partner perché si è tenuto ieri sera presso la società umanitaria di Via D'Averio la cerimonia d'apertura del Milano Off Fringe Festival, che è un mestre teatrale che ci accompagnerà in varie zone della città fino al 2 di ottobre e di cui Milano News appunto è media partner. Nel corso della serata gli organizzatori del festival Francesca Vitale e Renato Lombardo hanno presentato i testimoni dell'iniziativa, Raul Cremone, Enrico Rava, Pamela Villoresi, e Tindaro Granate, Enrico Intra e Mattias Martelli. Presente all'inaugurazione anche il sindaco Sala che ha rilasciato una breve dichiarazione proprio ai nostri microfoni a Francesca Cutrone. Buonasera sindaco Sala, con il Fringe Festival si riaccende la luce sui teatri e sul Milano, ma non è solo il Fringe Festival perché fa parte di un palinsesto molto più alto, quello di Milano e Viva. Abbiamo cercato di portare un po' di aiuto in questo momento e di stimolare le iniziative che piccoli o grandi accendono tanti momenti di cultura nella città. L'indicazione che ho dato è di cercare di portare in ogni quartiere qualcosa, magari non sarà esattamente in ogni quartiere, però mi pare che il palinsesto sia un palinsesto molto ampio e il Fringe porta il suo contributo. Anzi, le faccio un appello perché noi teniamo molto i municipi e la sua squadra di ragazzi molto giovani si danno da fare per dare spazio ai giovani, al teatro e alle attività. Giusto in questi giorni Montagnetta Live sul municipio 8. Non è puro teatro ma è anche quello. No, è anche quello, ma al di là di tutto la cultura non è qualcosa a sé stante. La cultura è qualcosa che si sposa con un'idea della città, con la socialità, che ci aiuta anche a tenere la comunità coesa. Per cui io una volta mi cospargo il capo di cenere perché so che dovremmo fare molto di più. Abbiamo i nostri limiti, però cercheremo sì di fare di più, soprattutto in questo momento storico che è un momento delicato e la cultura è importantissima per Milano. L'incontro tra generazione e Milano è sicuramente un buon punto di partenza. Lo è, qui vediamo persone come Enrico Intra che hanno ancora una voglia incredibile, vediamo tanti giovani che vogliono trovare il loro spazio. una volta si pensa che gli anziani sono i più fragili, magari fisicamente, ma hanno acquisito quella solidità che aiuta a gestire momenti così difficili. Gli anziani e chi ha più anni deve aiutare i giovani. Dicevo prima, non è tanto il tema di dobbiamo parlare con i giovani, prima di tutto dobbiamo ascoltarli, perché su certe cose hanno idee migliori delle nostre. La ringrazio, è stato un piacere, buona serata e buon friggio. Il Milano Off Fringe Festival comunque verrà seguito da Milano News fino al 2 ottobre con anche, vi dico già, i giovedì sera e il vendisera dei collegamenti in diretta all'interno del nostro telegiornale, proprio con i teatri e anche speriamo appunto con gli artisti che parteciperanno al Milano Off Fringe Festival di quest'anno.